Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Nell'ambiente scintillante della televisione italiana, un'attesa finale coinvolgente sta per svolgersi sullo sfondo dell'imponente Stadio Olimpico di Roma. Fiorello, con il suo inconfondibile stile esuberante, si prepara a chiudere in grande stile l'attuale stagione di Viva Rai 2. Durante l'ultima puntata, non solo celebrerà la carriera di Amadeus alla Rai, ma accoglierà anche ospiti del calibro di Giovanotti, e una leggenda del rock italiano. Giovanotti farà la sua prima apparizione televisiva dopo un grave infortunio, aggiungendo un ulteriore strato di anticipazione all'evento. Amadeus, dopo aver annunciato la sua partenza dalla TV di Stato per cercare nuovi orizzonti creativi, si unirà a Fiorello in quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione in Rai. Questo addio si profila come un momento emotivo, non solo per Amadeus e Fiorello, ma anche per i fan che hanno seguito le loro carriere. Oltre a ciò, il dinamismo di Fiorello viene ulteriormente evidenziato dalla sua libertà contrattuale con la Rai, permettendogli di esplorare nuove avventure televisive o artistiche. L'ironia di Fiorello brilla anche quando affronta le speculazioni mediatiche, come dimostrato dalla sua risposta scherzosa ai rumor che circondano il futuro contratto milionario di Amadeus con 9. Con una punta di sarcasmo, Fiorello ha sminuito le voci, aggiungendo un tocco leggero a una discussione altrimenti seria. Questa celebrazione finale a Viva Rai 2 si preannuncia come una festa indimenticabile, ricca di emozioni, musica, e un tocco di malinconia per gli addi imminenti. Grazie